Siamo a casa amore Siamo a casa amore Siamo a casa amore Quattordici, cinque, seconda. Silenzio. Tobia, ricordati che ti indico io, eh. Buono. Azione. Stop! Ma come stop, Joe? Stava venendo benissimo, la stavo lardellando di brutto. Stop. Azione. Per di qua, per di qua. Vieni qui dove c'è Mirko. Ah, anche il cara. Sì. Lasciala, c'è la cosa qua vicino. Rimani là. Vai un po' più in qua. No, devi entrare in campo. E se... E se hai capito, Tobia, sempre a destra macchina, vedi Amanda, quando lei ti urla. Mi ti urla. Mi ti urla un gesto? No. Io l'ho detto di te. Sì, borgi di lei quando... Sì, urli quando lui ha messo il giubbotto, ok? Ok. Quindi capito? Quindi capito? Non è piazza, ti urla, ti urla... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. E deve essere da un po' a destra. Sì, sì. Sì, sì. Ragazzi! Che cos'è? Mila, per favore, puoi venire qui. Dio, che schifo! Dio mio! Dio mio! Dai! Ci pensiamo dopo. Puoi venire qui. Quando vai, viva! Dio, che cos'è? è adatto, non ho capito? È adatto, perché altro è adatto. Ma c'è un motore? Un attimo. Anche le volte la do. Ok. Poi c'è la mossa con me. Cangeli? Bene. Ma non è che stiamo... Tutto basso. Faccia meglio fare col piede dopo. In questo totale non importa, non lo toccare quello. Proviamo un'altra volta, poi mettiamo la camera. Fremito. Ah, Tobia! Ah, sì, scusami. Questa è la cosa più importante. Ma la abbatta sul piede, sai? Questa è qualcosa che va male, non c'è come fare. Esatto. Quando lei ti chiami, ti dice prendimi quello, che già sapevi dove stava. Ti fermi un attimo, la guardi, a quel punto noi la scopriamo. Ok. Ti sei? Alla prossima.